Allora Max, missione compiuta qui a Cisterna, altra partita difficile contro un avversario che ha giocato un'altra buona gara. Brava Perugia, mi sento di dire, abbiamo fatto la nostra onesta partita, molto concentrata, molto determinata e raggiungiamo la semifinale. Non è mai banale qualificarsi in semifinale in Italia. Sì, noi abbiamo affrontato questa gara come ci eravamo ripromessi di fare, siamo partiti subito molto carichi, determinati, muro a difesa, abbiamo giocato subito molto bene. Loro sono una squadra che sbaglia poco, che quindi regala poco, questo lo sapevamo, sono molto bravi in difesa, in particolare con alcuni uomini. Poi i primi due set sono stati difficili perché sembrava di giocare a bici volle, io non so quale fosse la vostra visione da fuori, ma in campo si vedeva poco con i riflessi del sole, quindi siamo stati comunque bravi ad affrontarla bene. Sono contento, un'altra semifinale, un passo alla volta. Senti, sono sicuro che prima di questa partita nessuno di voi pensava al ritorno di Champions con Trento. Adesso questa partita è finita, ci faccio pensare io, abbiamo ancora qualche giorno, si gioca giovedì sera, ne parlavo anche con Simone. La sconfitta 3-2 dell'andata lascia comunque tutto aperto, è stata una partita di grande intensità, lo sarà probabilmente anche giovedì. Noi come andiamo a Trento, Max? Bene, carichi determinati, vogliamo giocare un'altra grande partita, sfruttare un po' meglio le occasioni che magari ci siamo creati e ne abbiamo sfruttato qualche giorno fa. Perché secondo me abbiamo disputato nel complesso una buona gara. Chiaro, hanno vinto loro, evidentemente noi abbiamo sbagliato qualcosina in più, al di là dei meriti dell'avversario. Sarà una partita ancora più complicata perché saremo fuori casa, ma il livello delle squadre è così alto, così comunque vicino, che alla fine puoi giocare in casa, giocare fuori, un po' cambia, ma veramente la differenza è minima. Quindi niente, adesso come sempre faccio mi godo questa partita perché sennò poi diventa tutto normale, tutto scontato, tutto banale, invece non deve essere così. Da domani si pensa a Trento e sinceramente non vedo l'ora di essere lì su per potermi godere questo grande match. Esatto, ti libero con questa considerazione, se ti conosco un pochino non vedo l'ora di giocarla la partita di giovedì. Ma sì, è una semifinale di Champions League contro un grande avversario, è una delle partite più belle dell'anno, più emozionanti, sarà una delle partite più tese perché ogni palla peserà il doppio, il triplo. Quindi sarà bello, io non vedo l'ora che sia giovedì per andare a Trento a giocare, cercare di godermela il più possibile. Insomma con l'obiettivo ben chiaro in testa, lo conosciamo tutti, è inutile stare qui a ripeterlo.